Grazie a voi da otto anni produciamo un programma settimanale tv che parla solo di golf. Grazie a voi da otto anni ci stiamo impegnando con grande passione nello sviluppare il nostro progetto attraverso diverse piattaforme. In chiaro sul digitale terrestre per coprire gran parte del territorio nazionale, sul canale youtube dedicato a golf television, sul nostro sito internet e naturalmente in diretta streaming. Ogni mese oltre 25.000 visualizzazioni dei nostri filmati solo sul canale youtube per un totale di oltre 1.460 ore di visione. Ma non solo, grazie ai 2.628 giocatori che nella passata stagione hanno partecipato alle nostre gare, il circuito Domina Golf Television in Tour è tra i più seguiti tra le appassionati di golf. L'unico che fa rivedere le gare in tv. 25 tappe, 12 regioni coinvolte, 500 premi, 100 nere stude pin e la bellezza di 175 viaggi in palio con volo aereo soggiorno di inclusive al Dominal Coral Day di Charm & Shake. Al nostro fianco per condividere i diversi progetti ci sono aziende importanti ma anche diverse partnership. Quella con Golf Italia, il periodico diretto da Massimo De Luca. Insieme a Golfando, il blog di TGCon24 scritto da Sauro Legremandi per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che accade nel mondo del golf. La stretta collaborazione con Italian Golf Academy per offrirvi tutte le settimane suggerimenti tecnici e lezioni di golf sempre free on demand. Grazie a voi alla vostra grande partecipazione da diversi anni organizziamo anche l'unico vero circuito di gare con un format a 12 buche dedicato a chi durante la settimana non ha molto tempo a disposizione per giocare. Grazie a voi nel 2021 saremo presenti con le gare dei nostri circuiti sui più bei percorsi italiani per farvi vivere una stagione a tutto golf. Da tutto questo nasce The Club. Il punto d'incontro per chi ha la passione per il golf. Semplice, completamente gratuito ma soprattutto riservato. Una newsletter periodica per conoscere in anteprima novità, aggiornamenti e nuove iniziative. Sconti speciali riservati sui prodotti delle nostre aziende partner. Green fee a prezzi scontati in occasione dei nostri eventi. Possibilità di vincere la partecipazione alle nostre gare. The Club. Il nuovo mondo di golf television dedicato a chi ama il golf. Golf television. Non solo tv. Molto di più.